Refugio, Nebos, Brugge d'Agadie Grazie 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 Il comando è stato dato da un sorrentino. In questa nave c'era Michele Maccarone Palmieri, arriva da Siracusa lunga 211 metri, ma quando è nata ne era solamente 195, è stata allungata di 15 metri nel 2018. Grazie. 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione